Massimiliano Perlongo, responsabile della pastorale giovanile Giovanni Paolo II di Squillace, sessione di Squillace. Oggi siamo in conferenza stampa per un evento importante, quello di ricordare una memoria a Don Domenico Cirillo, che ha dato molto a Squillace e agli Squillacesi. Cosa rappresenta per te questa figura, anche se poi non l'hai vissuta personalmente, perché hai dei ricordi blandi, voglio dire che abbiamo tutti noi giovani, giusto? Certo, allora io ero piccolino quando Don Domenico Cirillo è volato alla casa del padre, per cui lo ricordo pochissimo, però quello che ricordo è il grande sorriso, la grande solarità che aveva quest'uomo, è il grande zero apostolico per le persone, per la comunità tutta di Squillace e soprattutto la grande devozione alla Madonna, che l'ha visto protagonista dentro questo santuario e che per suo volere è stato riabilitato al culto, per cui proprio giorno 3 agosto apriremo qua questi due giorni per ricordare Don Domenico Cirillo con un concerto di musica sacra e poesia, proprio per dare un input anche alla cultura, proprio perché lui è stato uomo di cultura, non solo di fede e di preghiera, ma anche di cultura, lui ovviamente ha, diciamo, redatto, ha collaborato con la rivista da lui inserita qui della Madonna del Ponte, ha fatto tante altre cose, per cui è il caso di ricordarlo questo grande uomo. Don Domenico Cirillo ha coltivato molto la passione per i giovani, per il mondo giovanile, ancora oggi molte persone, adesso anziane, di Squillace, ricordano con affetto proprio i suoi insegnamenti, un po' come Giovanni Paolo II, quindi mi fai un parallelo tra i due personaggi? Certo, intanto da ricordare che proprio Don Domenico Cirillo ha scritto, diciamo, una lettera a Giovanni Paolo II, secondo, in più sicuramente Don Domenico Cirillo, in quanto pedagogo, ha educato alla vita cristiana quei valori semplici, quei valori veri, tradizionali, che ancora oggi noi sentiamo vivi dentro di noi ed è questa proprio l'occasione per cui la passorelle giovanile si vuole mostrare, proprio per indicare proprio questo, il valore del giovane e che comunque Don Cirillo, attraverso gli altri giovani, da lui ai Ducati, ha trasmesso anche a noi. Antonio Mauro, uno dei responsabili del comitato Don Domenico Cirillo, quindi anche una bella iniziativa quella di creare un comitato a suo nome, che tra l'altro ha organizzato delle serate a Squillace, sempre in suo onore, degli eventi. Sì, ricordare, guarda, mio zio è emozionante, perché io ho tantissimi ricordi, essere responsabile del comitato sono molto fiero, poi dovrei ringraziare alcuni enti, come la Regione Calabria, che è stata molto vicina, con il capo ufficio stampo della Regione Calabria, la dott. Naldana Mesoraca, poi la provincia, i due comuni di Squillace, i due comuni di Squillace e di Cardenale, e poi queste associazioni che per prima hanno intrapreso, ci hanno scritto se potevano fare dei documentari su mio zio, e anche io ho dato molto materiale e in questo documentario, guarda, invito le persone a venire perché ci sono delle immagini inedite mai viste. E poi invitiamo tutta la cittadinanza e anche tutti quelli che ci seguono attraverso questa emettente, giorno 8. Giorno 8 ci sarà un'iniziativa molto importante, una tavola rotonda, tra cui ancora non sveliamo i nomi perché abbiamo in contatto alcune personalità, e poi ci saranno alcuni riconoscimenti molto importanti, delle persone che sono state molto vicine a mio zio e alla memoria, e poi c'è un premio a sorpresa, oltre alla memoria, anche a una persona che è stata molto vicina, e poi ci sono alcuni attestati che verranno, riconoscimenti che verranno dati alle persone in cui hanno collaborato, che secondo me già da come si vede sui siti web avrà un successo, visto dal personaggio che stiamo parlando, è stato un personaggio sia sacerdote che uomo, uomo e padre di alcune persone di quell'epoca in cui ha vissuto. Mario Caso, presidente Domus Pacis, anche lui un ruolo importante in questa iniziativa che ricorda il compianto Don Cirillo, che è nelle memorie di tutti, giovani e anziani, perché come dicevo prima nelle altre interviste, noi non l'abbiamo conosciuto, però abbiamo avuto il piacere di sentirne parlare, e lui ha avuto un ruolo importante nella Domus Pacis degli anni, forse è stato uno dei fondatori, se non erro. Sì, Don Cirillo è stato sicuramente tra i padri costituenti della Domus Pacis, il nostro atto costitutivo parla chiaro, quindi nessuno può smentire questo, ma soprattutto ha svolto una fondamentale funzione educativa all'interno della stessa associazione, rappresentando una figura molto importante, quella del padre spirituale. E noi proprio per questo motivo, quando il nipote Carlo ha pubblicato il suo articolo, dove ci informava della nascita di questo comitato, abbiamo deciso subito di aderire a queste iniziative estive, che dal 4 al 17 si terranno tra Squillaggio e Cardinale, e abbiamo deciso semplicemente di offrire il nostro contributo. Un contributo che si realizzerà con l'inaugurazione dello stesso Salone Sogio Ricreativo, la benedizione dell'affresco che è stato realizzato in sua memoria, e poi un piccolo documentario che abbiamo realizzato grazie a Salvo Corigliano, in cui appunto ripercorriamo tutte le tre cinderebili dell'apostolato di Don Cirillo. Quindi invitiamo tutti a prenderne parte la sera di sabato 4 agosto alle ore 21.30 a San Matteo. Una cosa che mi premeva ricordare era il fatto che adesso noi siamo nella splendida cornice del santuario della Madonna del Ponte, fortemente voluta da lui, perché comunque questa chiesa nel 1976 era di roccata, e lui poi insieme ad altri squillagesi naturalmente ha voluto riprendere questo santuario che oggi è meta di molti pellegrinaggi. Sì, il santuario della Madonna del Ponte a mio avviso resta l'opera più grande che è riuscito a realizzare Don Cirillo, un'opera tutt'oggi facilmente riscontrabile agli occhi dei tanti fedeli che qui vengono e trovano veramente un oasi di pace direi. Se non sbaglio è stato nel 1976 che Don Cirillo ha avviato questa ricostruzione del santuario, perché qui c'era una fosse con una serie di rovi, di sabbie, quindi anche grazie poi all'aiuto della provincia e di Don Cirillo soprattutto si è riuscito a ripristinare questo luogo meraviglioso. È da segnalare l'importante ruolo svolto da questo sacerdote, perché è riuscito a coinvolgere tutta la maestranza locale e quindi tutti questi operai che in maniera molto spontanea, volenterosa e quindi senza scopo di lucro hanno voluto riprendere questo santuario offrendo appunto il proprio semplice contributo. Quindi l'opera più bella che ha potuto regalarci forse è proprio questo, il santuario della Madonna del Ponte.